ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti carissimi videotubisti sono sempre io Mujedin l'ultimo dei talebani napoletani benvenuti su questo nuovo video benvenuti su vicuna un chatbot open source molto ma molto simile a chat gpt 4.0 ma completamente gratuito vi dico tutto questo perché oggi questa mattina il primo aprile del 2023 altro che pesce d'aprile ci hanno fatto una bella sorpresa in sostanza accedendo a chat gpt viene fuori che praticamente gli utenti italiani non potranno più usufruire del servizio per via della privacy questa cosa veramente molto 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 brutta è stata perché perché molte persone ci stanno lavorando molte persone non utilizzavano spesso e quindi togliere uno strumento secondo me così importante è veramente penalizzante per la storia della privacy quando poi in giro si vede veramente di tutto ma adesso ragazzi prima di andare a vedere una valida concorrente di chat gpt questo vicuna veramente eccezionale vi chiedo per chi non l'avessi ancora fatto iscrivervi al canale cliccare le pollice in su lasciare un commento e non dimenticate di attivare l'iconcina della campanellina per attivare le notifiche qualora uscissero nuovi video ma prima di andare a vedere vicuma io direi cerchiamo di capire come è stato sviluppato e su cosa si basa perché è importante capirlo allora vicuna abbiamo detto un chat bot open source vi lascio in descrizione il link è addestrato praticamente perfezionando un algoritmo che si chiama l l ama sulle conversioni condivise dagli utenti che sono raccolte da un sito particolare che si chiama share gpt il sito di raccolta informazioni ve lo lascio in descrizione nel caso in cui poi vogliato anche voi partecipare praticamente questo share gpt lui raccoglie tutte le informazioni tutte le chat che avete fatto un chat gpt e diciamo viene utilizzato poi come base dati per i suoi ragionamenti è molto molto importante capire anche di cosa stiamo parlando l lma m che cos'è quindi l lma ma è un algoritmo di apprendimento automatico che utilizza un sistema di apprendimento cioè in altre parole viene addestrato con dati etichettati quindi utilizza queste informazioni per prevedere il valore di una variabile l'algoritmo viene addestrato per minimizzare l'errore di previsione quindi il risultato finale sarà molto ma molto preciso l'algoritmo viene utilizzato in molti campi ragazzi fra cui la finanza immaginate previsioni effettuati su azioni titoli del loro andamento ovviamente in biologia in fisica in matematica ed è stato rilasciato dalla soft house che si chiama meta ai nel febbraio del 2023 quindi da poco tempo la valutazione preliminale utilizzando gpt 4 come giudice addirittura mostra che vicuna raggiunge una qualità nelle risposte superiore al 90 per cento confrontato con open e ai della chat gpt praticamente e addirittura anche confrontato con google bard intelligenza artificiale di google che si recuperando tra l'altro altri modelli come neanche a farla apposta l'llama e lo stanford alpaca in descrizione ragazzi vi lascio tutto ciò che serve per quanto riguarda i vari collegamenti i vari link molto molto interessante vi consiglio di andarli a vedere ma adesso andiamo a vedere proprio la chat sono proprio curioso adesso vi lascio poi ovviamente ovviamente il link in descrizione questa è vicuna la chat molto semplice abbiamo praticamente la possibilità non solo di utilizzare vicuna ma anche alpaca e l l m a m a che vi ho raccontato prima se cliccate qui praticamente ci sono tutta una serie di specifiche di come è stato addestrato perché è stato valutato come l'hanno fatto e addirittura guardate c'è una statistica sulla sul perfezionamento sulla qualità delle risposte che vengono date da vacuna e da scusate da vicuna e praticamente come vedete al 92 per cento e poco dietro bard di google e poco dietro chat gpt quindi per essere un progetto open source diciamo che è veramente un bel po un bel po potente diciamo quindi è da considerare veramente tantissimo questo questo prodotto molto molto interessante allora andiamo di nuovo sulla sulla chat perché mi sa che è saltato direttamente ed eccolo qua qui potete trovare anche altre informazioni su alpaca eccole qui stendo alpaca e vabbè quindi se volete se cercate informazioni è interessante e se anche l l m a m a eccolo qui e ci sono tutte le loro le specifiche comunque per utilizzare uno di questi tre modelli praticamente basta selezionarlo io sto usando il vicuna anche perché quello più potente la versione 13b e qui praticamente possiamo inserire le nostre domande e la cosa interessante è che funziona praticamente come chat gpt ma come vi dicevo prima chat gpt ce l'hanno tutto potete utilizzare questo e funziona veramente molto molto bene iniziamo subito con con lo scelto ok vq non abbiamo scelto mettiamo una domanda che ne so mi scriveresti un titolo per un video youtube sul gioco degli scacchi quindi è importante lui deve capire bene cosa stiamo dicendo la cosa bella che lo puoi fare anche in italiano quindi funziona tutto veramente molto molto bene le basi del gioco degli scacchi come giocare e vincere e lui ci ha messo questa questa risposta va bene va bene c'è le cose veramente pazzesca allora io direi facciamo mi fai un esempio in linguaggio lazarus di un file letto scritto anche male così che popola una listbox ecco qua andiamo a vedere praticamente nel linguaggio lazarus praticamente ho detto di aprire un file sequenziale spero faccia questo per poi andare a popolare un oggetto che si chiama list box che non è una sorta di griglia ecco un esempio di codice lazarus per un file che popola una listbox con alcuni valori ed ecco qua mi fa l'esempio tab di creazione delle variabili eccolo qua l'associato anche al button click 1 e sta facendo il tutto e lui praticamente mi sta facendo vedere come associare una lista box degli item apple banana cherry durian eldberry ecco qua e vengono caricati col ciclo quindi prima lo pulisce poi con il ciclo praticamente lo carica quindi addirittura spiega poi è molto molto simile a quelle potenziali c'è la gpt perché non solo mette cose poi dice in questo esempio la list box viene chiamata list box 1 il pulsante button 1 il metodo button 1 click viene utilizzato per assegnare il comando contenuto la list box venga venga rimosso prima di ripopolarla la lista dei valori viene definita come una costante in c list box items molto 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 interessante ragazzi allora veramente veramente molto molto interessante vicuna è un progetto completamente gratuito che sta iniziando a crescere possiamo aiutarlo come ho detto prima utilizzando il link relativo a share gpt dove praticamente tutte le conversazioni vengono salvate quindi e la base dati sulla quale poi l'algoritmo gira e vicuna cresce mano mano e un giorno magari diventerà anche più potente di chat gpt o di bardo di quant'altro quindi è un progetto open source completamente gratuito senza nessuna restrizione quindi ragazzi con questo è veramente tutto muged in l'ultimo è tale banale napoletane vi ringrazio vi saluto a presto e ciao ciao ragazzi